Questo è il nuovo Mac Mini M4, configurazione base, un giocattolino veramente interessante che oggi andremo ad analizzare a fondo con prestazioni in programmi come Blender, Suite Adobe, DaVinci e tanto tanto altro per capire un pochettino a chi serva e soprattutto se effettivamente valga i 730€ che costa nella configurazione base 16GB di RAM e 256GB di SSD. Iniziamo un attimino a capire. Questo simpatico blocco di alluminio, e vi assicuro è freddo, è proprio tanto freddo, è alluminio su tutti e tre i lati, ci costa 730€, è appena arrivato sul Apple Store e su Amazon e potete comprarlo al momento in tutte le varie configurazioni. La cosa interessante è che Monta M4, attualmente uno dei chip più interessanti per quanto riguarda le prestazioni per Watt ma soprattutto, anche come potete vedere, dove si possa inserire. Questa scatoletta è veramente minuscola, è qualcosa di incredibile che un computer con tutta questa potenza di calcolo stia in una scocca così ridotta. Visto che solitamente, per quanto riguarda l'universo di Windows o comunque di tutti i PC che ci girino intorno, siamo abituati sia a dei mini PC ma che, insomma, o hanno una potenza esagerata per la propria scocca e finiscono, insomma, a deteriorare le proprie performance a causa del thermal throttling oppure PC, insomma, che lasciano il tempo che trovano in termini di performance. Vanno bene per cose come XLG e riproduttività di tutti i giorni, ma non per i livelli di lavoro e produttività che raggiunge invece questo gioiellino. Partiamo dalla configurazione. Questo è il modello base che ho preso appositamente perché dovete sapere che salendo con la capacità, per esempio, anche solo degli SSD non migliora soltanto appunto quella che è la possibilità di inserire dati, file e programmi all'interno del nostro Mac Mini ma cambia anche la parte prestazionale per quanto concerne gli SSD. Sono in scala anche per quanto riguarda le prestazioni finali in termini di Mega al secondo. Solitamente Apple fa questo giochetto che maggiore la capacità dei nostri dispositivi, migliori sono le prestazioni. Ad ogni modo, qui abbiamo la configurazione base con 10 core sia sulla CPU che sulla GPU accompagnati da 16 giga di memoria unificata e soltanto dei disperatissimi 256 giga per quanto riguarda l'SSD. Una cosa che veramente per favore eliminiamo. Nel 2024 è veramente assurdo, però effettivamente Apple ragiona così e ancora gli va bene perché sanno di avere un predominio di mercato importante su determinate categorie. Qui troviamo sicuramente uno dei primi difetti della categoria di questo prodotto, ovvero il costo degli upgrade, che è veramente fuori di testa. Per passare soltanto da 256 giga a 512, cioè letteralmente un quarto di tera, si spendono 230 euro, che è una cifra veramente incredibile considerato che con 150-160 vi portate a casa 2 tera di SSD NVMe 4.0 di buona qualità da Amazon in maniera molto tranquilla. E prezzi simili anche per quanto riguarda la memoria RAM e l'upgrade invece del chip. Passando da M4 a M4 Pro effettivamente il prezzo praticamente raddoppia, quindi di per sé ci sono delle possibilità di upgrade, i costi sono veramente tanto alti. Praticamente si passa dalla fascia di interesse del Mac Mini a quella di un Mac Studio e questo è particolarmente ingente. L'unico upgrade di questo piccolino che direi che ha senso come prezzo è quello della porta Ethernet, perché ci permettono di passare da 1 gigabit a 10 con 115 euro. E vi dico che come prezzo non è troppo assurdo perché per esempio questa schedina basata su chip AX540 di Intel mi ha costata 75-80 euro se non sbaglio, in questo momento si trova in meno su quel prezzo, e vi permette di fare praticamente la stessa cosa, però guardate è grossa quanto il Mac Mini, anche un pochettino più larga, quindi di per sé è un upgrade giusto. Questa è l'unica cosa che hanno fatto diciamo bene. Ma non vi preoccupate, questo piccolino ha da dire qualcosa anche nella sua configurazione più piccola. La cosa che mi ha sorpreso positivamente è che oltre alla porta di alimentazione, l'Ethernet e l'HDMI classica abbiamo ben tre porte Thunderbolt sulla parte posteriore e due USB-C invece generiche sulla parte frontale. Un totale di cinque porte USB-C non sono poche, onestamente è bella mossa. Ora, io questo piccolino l'ho testato e da utente Windows sempre la prima cosa che ricerco è capire un pochettino quella che è la situazione prestazionale rispetto alle proprie controparti. Per capire un pochettino le potenzialità di M4 sono andato a analizzare sia le prestazioni di vecchi Mac con appunto M3, M1, M2 nelle versioni Pro e nelle versioni base, ma anche Ryzen con il Ryzen AI 9 HX370. Se venite dalla Apple vi assicuro i nomi dei processori su Windows sono meravigliosi, preparatevi. E devo dire che per quanto prestazionalmente si assomiglino, il Ryzen mi ha fatto abbastanza bestemmiare, tant'è che adesso lo vedete che si sta riaccendendo. Sapete perché? Perché stava tentando di finire lo stesso render che questo M4 ha fatto in 22 minuti di uno dei video più pesanti che abbia fatto di recente. Lui si spegne quando prova a farlo. Dopo un'ora e dieci che ha tentato di fare il render, neanche l'ha concluso. Nessuna delle quattro volte in cui l'ho lanciato. Molto bene. Ad ogni modo, le prestazioni di questo Mac Mini M4 mi hanno genuinamente sorpreso. Devo dire che effettivamente mi ha ricordato un pochettino il salto prestazionale che è stato introdotto sul mercato con i MacBook Air M1, ovvero un prodotto che al suo tempo aveva un costo abbastanza basso per quanto riguarda effettivamente la fascia di interesse, ma forniva delle prestazioni veramente da fuori classiche. Per la compattezza della scocca, il fatto di non avere ventole e in generale comunque il consumo bassissimo di pressoché 15 Watt, facevano capire che insomma l'impronta di Apple sarebbe stata importante sul mercato e M1 questa cosa l'ha confermata. Secondo me poi si sono un pochettino persi con M2 ed M3 non andando a fare grandi salti prestazionali, ma questo M4 mi ha fatto completamente ricredere ed è anche per questo che dopo tanti anni sono tornato a recensire questi prodotti. Questo M4 ha delle prestazioni veramente assurde per quanto riguarda l'ambito della produttività in più modi e adesso vi spiego. Prima di tutto partiamo un pochettino con questo semplice benchmark di Cinebench. Ho inserito anche un po' di processori desktop per riuscire a darvi un'impressione più larga di quanto assurdo sia il single core di questo M4. Come potete vedere si domina la classifica con 170 punti, cosa che nessun processore desktop al momento è in grado di raggiungere. Anche il 9800X3D e il 285K che in questo momento su Windows sono alcuni dei processori più grossi e potenti in assoluto per l'ambito della produttività non riescono a pareggiarlo e questa cosa vi assicuro tornerà dopo. E per quanto di solito Cinebench rappresenti un qualcosa di un pochettino artificiale, in realtà in questo caso devo dire che rappresenta alla fine quelle che poi saranno le prestazioni finali dell'M4. Invece sull'ambito del multicore potete vedere che un pochettino rimane indietro, ma questa è una cosa molto normale. Apple principalmente esprime le proprie prestazioni appunto nell'ambito del single core e devo dire che in realtà è una scelta molto molto sensata perché questo aiuta molto in contesti che nel quotidiano possono fare la differenza per professionisti nel livello della grafica, del photo editing e del video editing, quindi una larga porzione di chiunque possa voler comprare prodotti del genere. Parlando appunto di quest'ambito, che cosa abbiamo? Abbiamo un prodotto che per 729€ offre un piano prestazionale veramente assurdo. Guardate come gestisce tranquillamente questa timeline del mio video dell'Intel Core Ultra 265K, ovvero un video che dispone di un quantitativo di elementi a schermo veramente alto, clip in 4K, color correction, effetti, sottolineature, la stacking verticale e il cambio di immagini passa da 7 a 2 elementi costantemente, andando ad appesantire moltissimo, nonché tanti altri effetti come per esempio la mia presenza in picture in picture. Insomma, se lavorate su DaVinci sapete che questa è una timeline particolarmente pesante ed è interessante vedere come un prodottino del genere la riesca a gestire egregiamente, in maniera liscissima, puoi anche saltare da una parte all'altra e comunque l'M4 riesce a gestire benissimo tutto quanto. E questa è una cosa veramente incredibile perché magari voi mi direte, eh ma io non faccio video, che me ne frega di questo? In realtà riuscire a gestire una timeline in questa maniera è soltanto un sintomo ottimo di una prestazione che universalmente ci accompagnerà nella maggior parte dei programmi di canone simile, cioè quelli che debbano avere un grosso single core da sfruttare, come per esempio anche la grafica di Illustrator o semplicemente Photoshop, effettivamente saranno molto fluidi nell'utilizzo quotidiano e questa cosa ce lo fa capire. Come potete vedere su Premiere l'M4 si posiziona decisamente meglio rispetto al Ryzen e hai 9HX 370 e avendoli provati nel mondo reale vi posso assicurare che tra questi due prodotti c'è un abisso e Ryzen non riesce assolutamente a competere con l'M4. Su Apple non ci sono tempi di caricamento, non ci sono drop degli fps, non ci sono difficoltà a scorrere nella timeline. Sei sempre pronto e in qualsiasi punto tu ti posizioni, premi e parte la riproduzione della clip ai 25 fps in questo caso appartenenti alla timeline, lavora benissimo nonostante il carico veramente ingente. Lavorare invece su questo Ryzen AI HX 370 è stato effettivamente molto difficoltoso a partire dal primo caricamento della timeline che di per sé non ha assolutamente collaborato, praticamente come potete vedere si bloccava e nel momento in cui poi invece ha digerito un pochettino il progetto, effettivamente comunque ha iniziato a girare bene, questo io lo concedo, però ha avuto anche dei casi in cui gli fps calavano a 11 rispetto ai 25 stabilissimi che è in grado di garantire l'M4. Cioè stiamo parlando di un'esperienza prestazionale ma soprattutto di vita per il produttivo, il creativo, il content creator che ci vada a stare dietro che effettivamente è radicalmente diversa. Cioè il concetto è che in una giornata di lavoro tu non ti debba stressare e questo non ti stressa, io ho lavorato benissimo sul mio video con questo piccolino, se questo fosse stato l'unico strumento a mia disposizione per gestire quel video io probabilmente non l'avrei finito, tant'è che non l'ho finito come potete vedere il render qui stava ancora andando, io adesso mi sono girato perché ero convinto che come avete visto all'inizio del video stesse ancora andando lì dietro ma effettivamente non l'ha mai concluso, non riesce a renderizzare questo video, cioè esistono dei contenuti che Ryzen in una configurazione da 45 watt non è in grado di affrontare, mentre questo piccoletto l'ha concluso in circa meno di 30 minuti che per un video del genere così pesante e così lungo vi assicuro è un risultato veramente eccellente, almeno nella mia esperienza con DaVinci. E sottolineo, siamo su DaVinci, neanche su Final Cut, siamo in un territorio neutrale dove effettivamente Apple riesce a eccellere in maniera molto importante, così come su Premiere. Cioè per me come video editor è veramente impressionante che nemmeno con i proxy Ryzen riesca a paragonarsi, cioè devi veramente, veramente sprecare tanto tempo ad aspettare che si mangi l'intera timeline che la riproduca un paio di volte e appena ti discosti dal punto fisso in cui eri, tutto va un po' ameritrici. Però ovviamente non esiste soltanto il video editing, andiamo a vedere un pochettino la grafica e il foto editing. Quest'analisi di Photoshop fatta con la suite di Adobe ci dimostra che l'M4 è competitivo non soltanto nella categoria degli SOC ma performa anche molto molto bene in quella che è la categoria dei PC desktop. Cioè come potete vedere si posiziona sopra bestie sacre come il 14900K, complice al single core di ottima qualità che effettivamente dà un beneficio notevole. Photoshop come potete vedere è un programma che dà grande beneficio ad AMD su desktop ma questo piccolino consumando nettamente meno riesce a dare delle performance veramente assurde. E questo test di Photoshop fa un pochettino da baluardo per tutti quei programmi che poi utilizzino il single core in maniera estensiva, quindi penso anche a un Lightroom, GIMP o anche semplicemente Illustrator e programmi di grafica simili. Laddove appunto non ci sia un forte affaticamento del multi core il vantaggio di Apple su M4 è indiscusso. Lavorateci è veramente molto molto interessante. Devo dire è un risultato che mi ha lasciato particolarmente sorpreso perché che questa scatoletta letteralmente un ottavo di una scheda madre riesca a tirarmi fuori delle robe del genere a 729 euro. Cioè raga io ho schede madri che costano più di 729 euro in questo studio è veramente notevole. Nei commenti dell'unboxing su Instagram alcuni mi hanno chiesto sì ok fantastico il video e foto editing ma negli altri programmi come se la cava e onestamente sono andato a realizzare dei test anche lì. Allora per quanto riguarda Corona Renderer che è uno dei renderer più utilizzati al mondo in ambito di architettura mi dicevano questo è un programma che effettivamente fa risaltare l'HX370 come potete vedere ma qui ho inserito un roster di Apple Silicon più largo come potete vedere ci sono due fattori interessanti. Uno che l'M4 effettivamente sia riuscito a battere la configurazione avanzata dell'M3 Pro di qualche punto però comunque già posizionarci sopra è impressionante ed effettivamente che invece l'HX370 non andando a batteria riesca a posizionarsi sopra di circa un 10% meglio andando a attaccare quella che su desktop sarebbe la performance praticamente di un 8 core Ryzen come un 7800 X3D. Questo ci riporta a quanto abbiamo visto su Cinebench prima ovvero che l'HX370 Ryzen ha un multi core più forte. Niente da dire nonostante Windows gli remi contro il single core non sia eccellente come quello dell'M4 effettivamente il multi core offre delle prestazioni migliori in programmi come Corona Renderer è assolutamente il dominatore e questo è un punto a favore di Ryzen. Anche in Blender come potete vedere si conferma un pochettino la mia teoria effettivamente potete notare un HX370 molto molto vicino al 7800 X3D in termini prestazionali e poi abbiamo un Mac Mini M4 che distacca anche l'M3 Pro. Onestamente la cosa più interessante è questa cioè come l'M4 liscio a 729 euro stia competendo con un M3 Pro in configurazione che se non sbaglio costava più o meno 3000 euro. Quindi di per sé molto molto valido. C'è un distacco comunque anche importante rispetto all'M3R questo specifico che ho qui davanti e anche rispetto alle generazioni precedenti M2 ed M1. Onestamente M3 Pro e M4 lasciano appunto un distacco rispetto a questi ultimi. In generale ci si distacca dalle prime due generazioni dell'Apple Silicon e si va a dar filo da torcere alla terza cosa onestamente molto molto interessante. Comunque rimane che Ryzen nell'ambito del multi core sia più performante appunto dell'Apple Silicon. Per quanto riguarda la parte dell'intelligenza artificiale utilizzando semplicemente Geekbench AI abbiamo un benchmark piuttosto affidabile per valutare un pochettino il contesto dell'inferenza e di tutti quanti gli applicativi che si possano richiedere appunto alle parti dedicate all'accelerazione di intelligenza artificiali, le MPU. E per quanto riguarda questo contesto effettivamente l'M4 ha delle prestazioni veramente eccellenti. Devo un pochettino capire perché l'M3 Pro si è rimasto così indietro rispetto all'M3 in questo contesto specifico però di per sé quello che ci interessa è semplicemente che l'M4 abbia un distacco generale rispetto al resto del gruppo posizionandosi nuovamente come il migliore della categoria. Devo dire che mi sento un po' Steve Jobs ogni volta a dire che questo qui è il miglior Mac di sempre però effettivamente lo è. Devo dire che la cosa interessante è l'incremento prestazionale rispetto all'M3 Pro perché comunque oltre ad un consumo maggiore quei processori hanno anche dell'hardware intorno migliore quindi di per sé è molto bene vederlo superare questi ultimi. Un altro dei punti cruciali ragazzi riguarda le dimensioni di questo prodotto. Ovviamente essendo così piccolo la gente si preoccupa delle temperature e fate bene giustamente. Diciamo purtroppo che le recensioni che si trovano nell'universo Apple molto spesso mancano di dire questi dati. Anche perché devo dire è stato particolarmente difficile estrarli. Utilizzando widget come Fanny e altri che appunto ho sempre adoperato per le recensioni di Apple mi sono accorto che era difficile trovare le temperature di questo prodotto. Anche da terminale non sono riuscito in nessun modo ad avere delle risposte. Alla fine TG Pro è stato l'unico a darmi dei dati concreti e ho fatto dei test prima di tutto in Cinebench. Come potete vedere le temperature comunque sì sono alte. Abbiamo una zona più calda, un hotspot da 92 gradi che comunque non è poco. Di per sé si difende bene perché rimane particolarmente silenzioso. Fondamentalmente questo coso è inudibile. Cioè se voi lo sentite tra carico e non carico non percepirete nessuna differenza. Fondamentalmente è come se fosse passivo. Non sentirete veramente mai niente. Le temperature forse ne risentono in qualche modo con questi 92 gradi. Tuttavia c'è da dire che il contesto di Cinebench è veramente molto aggressivo. Replicando un test simile in un contesto più realistico come per esempio quello di Premiere Pro durante degli applicativi misti come per esempio encoding, rendering e cose così potete vedere che le temperature sono decisamente più basse e più controllabili. Quindi dipende un pochettino da quello che andate a fare. Diciamo che se comprate un M4 base io non mi aspetto che facciate render di grande livello tipo appunto roba che sfrutti corona o cose così ma più che altro che lo utilizzate per fatti di progettazione, video editing e foto o appunto grafica. Però di per sé diciamo che per quei contesti va benissimo. Come potete vedere le temperature rimangono morigerate. Comunque vedendo queste temperature così alte la domanda che un recensore si deve porre è limitano in qualche modo le prestazioni ovvero avviene un caso di quello che prende il nome di thermal throttling ovvero una limitazione dinamica delle frequenze dei consumi a discapito delle prestazioni per preservare l'hardware dalle temperature troppo alte? Effettivamente no. Come potete vedere in questo test su Cinebench sono andato a realizzare dei render continuativi ci tengo a dire che oltretutto li ho fatti tutti di fila quindi di per sé è un test praticamente continuo di un'ora di stress test veramente intenso Cinebench è uno dei calcoli più intensi che si possano far fare a un computer ed effettivamente potete vedere che la degradazione delle performance tra il primo render che ci ha dato 974 punti in multicore utilizzando il 100% del processore ha soltanto 10 punti di differenza con quella che è la prestazione finale. In realtà abbiamo perso più prestazioni nel primo render da 10 minuti che dopo 30 minuti di render effettivo. Quindi qui vi posso dire che effettivamente non c'è una degradazione delle performance derivata dalle temperature. Il Mac Mini è piccolo, scalda ma effettivamente non perde prestazioni. Molto bene. E qui direi che abbiamo già avuto una buona immagine di questo prodotto praticamente per 729 euro offre piano prestazionale che prima era dato soltanto da prodotti di fascia nettamente più alta con costi di due o tre volte maggiori quindi di per sé è un prodotto veramente molto interessante. Oltretutto capace anche di contestare prodotti della fascia di Windows analoga che costino circa il doppio come per esempio questo Vivobook con il suo Ryzen AI molto interessante. Passiamo però ad analizzare alcune cose che mi hanno lasciato un po' perplesso. Prima tra tutti il tasto di accensione nella parte inferiore della scocca. Nella mia ignoranza, devo essere onesto, non avevo mai utilizzato un Mac attivamente almeno non un Mac Mini, soltanto Macbook. Ho detto subito nel mio video dell'unboxing ma che è? Cioè perché avete fatto sta cosa da Magic Mouse? Dopo ho visto il video di un designer che spiegava che questo qui si chiama design dissuasivo ovvero un design che ti deve portare a non fare quell'azione. Cioè è posizionato in maniera scomoda perché Apple non vuole che tu spenga il Mac. Vuole che tu lo mandi in sospensione. In sospensione consumerà molto poco, il monitor si spegne e vi posso assicurare che l'esperienza è veramente notevole. Cioè è un utilizzo molto diverso da quello che facciamo noi su Windows con i PC fissi. Nonostante sia fisso praticamente questo tasto lo utilizzerete una volta. Quando lo connetterete all'alimentazione, premerete qui dietro, lui si attiverà e da lì non lo dovrete mai più premere. Quindi è per questo che l'hanno posizionato lì sotto. Per evitare che la gente lo utilizzasse per accendere e spegnere il dispositivo. Quindi di per sé niente di male. Passiamo a parlare un pochettino di prezzi e qualità prezzo. Ora, da utente che effettivamente è fruttore principale di quelle che sono le possibilità di questo prodotto, onestamente, dico molto onestamente, il Mac Mini M4 è un mostro. Il qualità prezzo è assurdo. Cioè per 729 euro tu non hai un corrispettivo del genere su Windows. Non così completo, non così compatto. Non con la quantità di offerta che è in grado di offrire questo prodotto. Oltretutto costa 729 euro al lancio. Lo stesso discorso lo feci per il MacBook RM1. Quando uscì costava, mi sembra, 1349 euro. E nell'anno successivo praticamente era già reperibile a 200 o 250 euro in meno. Prezzo veramente assurdo. Io l'ho consigliato per anni. Cioè il Mac M1 ancora oggi è un prodotto competitivo in determinati ambiti. Non vi dico per l'editing video 4K, per quello vi consiglierei un prodottino del genere. Ma per uno studente universitario, cioè, arriva a fare anche 10, 12, 14 ore di schermo in base alla tipologia di utilizzo, luminosità e contesto. E onestamente è qualcosa di assurdo. Cioè vi dimenticate di caricarlo, come io mi dimentico di caricare il MacBook Air M3. Cioè sono prodotti pensati per determinate categorie e sui loro binari lavorano benissimo. Poi ci sono diversi difetti, come per esempio il fatto che gli upgrade costino veramente tanto. Però devo dire una cosa. Questo prodotto specifico è notevole per un motivo. Ora, se prendete il test in Premiere, potete vedere che il mio MacBook Air ha una performance veramente bassa. Questo perché? Perché essendo un render prolungato, il fatto che sia completamente passivo va a ledere le performance. Ed effettivamente le abissa. Mentre questo piccolino riesce a reggere. E con questo cosa voglio dire? Questo non va paragonato al MacBook Air. Questo qui è nella categoria di peso per le prestazioni del MacBook Pro M4. Che costa circa 1900 euro. Cioè quasi tre volte questo piccolino. Onestamente, se siete delle persone che possono lavorare in una postazione fissa e non avete bisogno di un portatile, è notevole. Cioè questo minuscolo cubetto vi darà delle prestazioni e delle soddisfazioni veramente notevoli in ambiti come appunto grafica, video e foto. Personalmente lo ritengo praticamente un miracolo. Poi, per quanto riguarda la memoria, io vi do un consiglio. Apple vi chiede circa 460 euro per fare un upgrade al modello da 1TB. E' onestamente assurdo considerato che questo qui piccolino base costa 729. Praticamente state aggiungendo più di metà del prezzo. Ma se siete furbi, considerato specialmente che parliamo del contesto di qualcosa di fisso o comunque di facilmente trasportabile, ma specialmente fisso, poi potete andare su Amazon, vi comprate uno di questi involucri qui, oppure anche un SSD esterno, e aumentate la memoria spendendo molto bene. Se volete prendervi un SSD decente, tipo un NM790D Lexar, spendete più o meno 250 euro durante gli eventi, 280 fuori dagli eventi. Ve lo posizionate in un involucrino così, un enclosure che costa più o meno 60 euro, e avete speso notevolmente meno, ma avete 4TB, non 1TB. Onestamente mi sembra una soluzione nettamente migliore e il Mac lavora perfettamente con questo tipo di soluzioni. Se no potete prendere un tutto in uno, costano un po' di più, come questo Samsung, questo qui è 1TB, però costa comunque meno di 460 euro, ve lo assicuro. Insomma, come avete capito da utente che, appunto, ha testato moltissime piattaforme Windows per il contesto della produttività, ritengo il Mac Mini M4 una gran manata per il mercato, veramente una sveglia importante per la concorrenza. Praticamente in questo momento siamo esattamente nella stessa situazione dell'M1 quando appunto sono usciti gli Aerei Pro. Onestamente non esiste un concorrente di mercato esatto che possa, prima di tutto, contestarne il prezzo. A 729 euro niente si può paragonare. Certo, nel contesto del multicore lascia un pochettino di spazio alla concorrenza su Windows, ma questa qui è una cosa abbastanza normale che è sempre successa negli anni. Però di per sé, oltre a quello, se, come vi ho detto, ci sono dei contesti specifici in cui lavorate, in cui il single core sia utile, il Mac Mini è impareggiabile. Oltretutto il qualità-prezzo è in dubbio. Personalmente lo ritengo uno dei prodotti migliori dell'anno. Detto questo, ragazzi, queste erano le mie opinioni sul nuovo prodottino di Apple. Fatemi sapere le vostre giù nei commenti, il link ve lo lascio giù in descrizione, descrizione, prima che volino per il periodo delle feste, onestamente è qualcosa di molto completo. Anche per studenti universitari, anche per chi lavori non in ambiti di video editing, potete provare anche per quanto riguarda Blender e progettazione 3D, poi dipende un pochettino dall'intensità del carico, però onestamente è molto figo. Poi considerate comunque che c'è anche la versione con M4 Pro, quindi potete anche fare un upgrade sostanziale per quanto riguarda l'ambito delle prestazioni, rimanendo comunque sotto al prezzo di un MacBook Pro M4 liscio. Quindi di per sé è veramente tanto interessante, è un prodotto molto molto valido. Fatemi sapere le vostre opinioni giù nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video, vi siete stati su Modern Tech. Salve usate!